L'infinito di Giacomo Leopardi rimane certamente una delle mie poesie preferite in assoluto e pensando a questa poesia mi chiedevo ma quale può essere il corrispettivo pittorico di questa altissima, suprema riflessione leopardiana sull'infinito, sul senso del limite, diciamo sul sublime? Beh, volendo trovare appunto un corrispettivo pittorico a tutta questa grandezza il primo nome che mi viene in mente è quello di Caspar David Friedrich ed è proprio di questo grandissimo pittore che voglio parlarvi oggi.